Buongiorno bellissimi, qui per voi è tornato il capitano Crax, siamo di fronte nuovamente al Brawl Talk perché ieri sì l'abbiamo reagito ma ci hanno troppato talmente tanta roba che merita un secondo video. Oggi Brawl Talk per 0.25 analizziamo tutto quanto nel dettaglio, tutte quante le cose insieme e in cambio vi chiedo solamente, se siete in hype, di lasciare un pollicione. Almeno 5.000 like, ce la facciamo spero di sì, iscrivetevi e campanella è fondamentale per rimanere aggiornati. E il codice Crax per tutte quante le skin che hanno troppato, inserito il primo effetto per acquisti, sapete anche il Super Sestore in descrizione, il codice Crax è un sacco di premi. Se parte, vabbè schippiamo le fasi quelle abbastanza insomma memabili, ok. Si parte con l'aggiornamento collaborazione con Spongebob, un evento fuori di testa, nel senso che sì hanno ripreso Godzilla ma l'hanno stracaricato, Godzilla era molto più snello. E vi spiegherò come funzionano i vari equipaggiamenti, come si sbloccano, come si acquistano. Namo, Air Mortis! Perché praticamente Spongebob è un pass, è un pass intero. Ok, let's go! Questi qua sono tutti i personaggi, tutte quante le skin che vengono troppate con l'evento di Spongebob. Abbiamo quella dei Squiddy che è quella del pass. Quella del primo che è, tra virgolette, la nostra hyperskin che oramai stanno reciclando, nel senso ogni Brawl Talk ti troppa il primo mese un evento con l'hyperskin e poi il secondo mese la seconda stagione e così via. Le altre si possono sbloccare con l'evento, ma credo che una di queste dovrebbe essere una skin classificata. Andiamo avanti. Esatto. Per tutto il mese. E qui vi chiedo, vi sciopperete il pass di Spongebob con questo Squid Mortis oppure risparmirete i soldi per prendere quello del castello di Halloween? Oppure li prenderete tutti e due? Commentino. Eccolo qui. Potete sbloccarlo gratis nell'evento del club. Probabilmente ci saranno delle missioni da fare con l'evento e riusciremo a portarci a casa il primo Spongebob skin però senza hyperskin perché è essenzialmente così. È la skin speciale di questo evento e tra l'altro ci dicono, esattamente qui, bisogna collezionare i cash, probabilmente un ammontare, che ne so, un milione di cash, butta a caso perché ora non so quanti ce ne daranno giornalmente. Un milione di cash da raggiungere insieme a tutti quanti i membri del clan. Raggiunti, ci sblocchiamo tutti quanti la skin di El Primo. Ecco perché non ci sta il Mega Pig. Credo che sia abbastanza chiaro, no? E ti dà pure le gemme. Attenzione, skin più gemme. Qui ci dicono che conta qualsiasi tipo di classic cash. Ok, Buzz diventa Patrick Stella. Però non ti specificano la skin classificata. Sandy Jesse. Potrebbe essere questa qua di Tic. Oppure il Plankton. Io spero quella del Plankton in classificata. Poi ce n'è un'altra che vedremo dopo, eh. Bisogna parlare dei potenziamenti. Oh, i potenziamenti, a differenza di quelli che abbiamo preso tramite gli ovetti, questa volta noi andiamo a prendere il potenziamento e non il brawler potenziato. E il potenziamento ci consente di potenziare determinati brawler. Sono diversi, eh. Però ogni brawler ha il proprio potenziamento associato. Li possiamo trovare a livello 1 e poi li possiamo potenziare a livello 2 e a livello 3. Aumentando il livello aumenta ancora di più il boost del brawler. Cioè sarà un delirio, regà, in queste modalità. Proprio divisi per classi. Ad esempio, questo qua del Krabby Patty, cioè dell'hamburger, può essere utilizzato da tutti quanti i tank. E a livello 2 ti dà un altro effetto, vedete? Due Krabby Patty. A livello 3 probabilmente te ne girano 3. Un po' come Melody, no? Vengono specificati tutti quanti i brawler. Qui sono tutti quanti i potenziamenti e tutti quanti con rispettivi livelli. Tre miglioramenti. Il brawler diventa più forte. Tutti i tank aumentano la difesa alla velocità e caricano la super quando esplodono. I supporto avranno un'area curativa intorno. Cioè sarà un altro Brustards, ragazzi, tipo moddato. Cioè utilizzi la super, ti danno un cubo di energia anche nelle 3v3. Colpendo i nemici ricevi una polpetta Plankton che renderanno i colpi a ricerca. Quindi ti inseguono, velocizzeranno il movimento e cureranno. I sorveglianti avranno gli attacchi potenziati dalla musica del clarinetto di Squiddy. Potete conservare fino a due attacchi che attraversano i muri e i brawler. Con l'attacco base i tiratori scelti lanciano una scia di bolle dannose per i nemici. E altre bolle. Apparirà di tanto in tanto la spatola, ok, per gli hamburger. Quando i nemici hanno poca salute potete eliminarli istantaneamente. No, ma sono cose regali. Questo mi piace perché per i drawer, quando tu praticamente diri il colpo, arriva un'ulteriore ananas. Un'area dannosa, tipo Brock. Ok, questi potenziamenti entrano in vigore solamente nelle modalità con appunto il modificatore. Ma io credo che il 70% delle modalità avranno il modificatore. Cioè cercano di spingerti a utilizzare quella roba lì. Praticamente quelli che non giocano forte, non prendono i modificatori, entrano in partita e si trovano questi qua che hanno i superpoteri. Cosa assurda. Sì, le altre modalità, speriamo ce ne siano. Prive di quella roba. Come se sblocca? Questo è quello che ci interessa, poi potenziamenti. Ok, a differenza degli ovetti, qui sta la cosa fondamentale, dove si trovavano le mutazioni e le skin, nei Power Meal, negli Happy Meal, si trovano solamente i potenziamenti. E se lo trovate direttamente a livello 3, cioè li può trovare tutti quanti a livello 1, poi tutti a livello 2, tutti a livello 3, cioè è un po' randomico. Li possiamo ottenere non dalle partite giornaliere, comunque qui si vede sia il discorso del clan con il primo, che là sotto il Krusty Krab. Entrando nel Krusty Krab ci sono offerte da prendere che ci consentono di spendere i nostri bigliettoni. Sono tutte offerte diverse e tra l'altro pura scadenza, ti danno il Power Meal, cioè l'equipaggiamento a tempo limitato, quindi c'è solo l'equipaggiamento. Potete sceglierci 5 star drop, i bling, non credo siano concatenate, non c'è stata una catena, cioè lui clicca quello che vuole e escono anche delle cose totalmente gratis. Lì hanno nascosto qualcosa, ah no ok c'è un potenziamento gratis, giornalmente bisogna entrare se prendono bigliettoni e se spendono bigliettoni. Logico, sicuramente, già ve lo dico, questi bigliettoni si potranno acquistare con le gemme ragazzi. Quindi uno che vuole spendere, se shoppa tutte quante le skin subito, se prende tutti quanti i potenziamenti subito, infatti c'è stata la skin di Patrick. Ci dovrebbe essere anche la skin quella di Jesse, altre skin pure. Eccola qua infatti, Sandy e Jesse, non riusciamo a vedere il costo, quanto costerà? 10.000. Ci sono anche delle offerte, quindi a sconto, vedete là sotto la cifra dei bigliettoni poi barrati. E qui te va da addirittura un hypercharge random, sicuramente una grande offerta. A sto punto Jesse non è, Patrick non è, Squiddy è del pass e il primo non è. Chi rimane o Tic oppure Plankton come skin della classificata. Ok, esatto, qui vi fa capire come ottenere questi bigliettoni, vincendo la prima partita del giorno nelle modalità quelle con il modificatore. Prendendoli gratis o acquistandoli, esattamente, e poi dal Krusty Grab tu entri lì, c'è la ricompensa gratis e poi ce li puoi pure spendere. Ah, e ci dovrebbe essere pure un day di accesso, ogni giorno bisogna entrare. Esatto, 100. Pure le nuove modalità e se passa direttamente alle modalità. Più o meno abbiamo parlato ragazzi dell'evento, un evento che andrà a devastare parecchio la ladder e valorizzerà magari dei brawler che prima erano messi in disparte. In realtà su tutti quanti potenziati c'è ogni brawler, c'ha il proprio modificatore, saranno bilanciati, non lo so, lo scopriremo solamente giocando. Tutto sta nel capire quanti biglietti ci darà giornalmente, quanto bisogna stare attivi per poter andare a prendere le skin queste qua speciali. Sempre se ci piacciono, perché se non vi piacciono quelle di SpongeBob, bregà, chiudete a chiave Brawl Stars e ci ribecchiamo direttamente a ottobre. Nuove modalità, abbastanza easy, bisogna catturare le meduse, alla fine della partita chi c'ha più meduse se le porta a casa, però devi tenerle. Esatto, perché altrimenti poi le perdi se viene killato. Poi Shadow 1 3v3 è interessante in 12, diciamo sarà strategica come la duo. E' lì, un brawler deve essere bello solido che magari ti rimane sempre sul pezzo e non va giù facilmente. Gli altri potrebbero andare a dar fastidio ai team degli avversari. E' un po', sapete come la vedo? Una KO con altri due team. C'è tipo una KO in quattro. Esatto, quindi nello shop c'è il premio giornaliero, da grasti, offerte gratis, eccetera. Ok, poi passano direttamente al pass. Ok, con squidi. Preciso, un mese intero. E qui si parla dei brawler. Mitico il mo'. Grande mo'. Allora, ricordiamo che fa parte del team quello del castello. GG, perché così poi ci hanno fatto pure la stagione quella dopo, hanno chiuso il castello. Il primo colpo sembra un colpo alla Spike. Poi dopo mette la trivella un po' stile Bonnie, cioè utilizza la ulti e diventa qualcos'altro. Riesce ad andare dritto. Stile Lily e diventa Drago. Spero di essermi un po' spiegato. Dovrebbe poi ritornare alla forma base tramite quella barra gialla che c'è sotto. Quindi ha una durata stile Drago, effettivamente. ritornerà ad essere un piccolo Spike, poi ricarica e fa la botta a stile Lily. Ma fate danni assurdi, ragazzi. Ah, pure la dashata. Fa 1640 di danni. Bisognerebbe capire il livello, ma credo che siano tutti quanti maxati. E poi dopo fa danni da ravvicinato con un bel raggetto d'azione. Fa malissimo, raga. Mamma mia. Guarda che roba. Finisce i tank e li massacra. E c'ha 6400 di vita, non è neanche poco. Poi c'è sta la classica skin abbinata subito per farlo uscire. Quest'altro brawler, secondo me ragazzi, il miglior brawler dopo diverso tempo. Cioè entrambi i brawler sono bellissimi di questo aggiornamento, ma questo è veramente un capolavoro. Ma anche d'estetica, bellissimo. Colpo diverso. Primo colpo, spadata stile Mortis. Secondo colpo, dash stile Stu. Quindi non è una cosa che devi fare le combo spostandoti, eccetera. Cioè tu devi colpire, andargli sotto e poi dopo fare la ulti. Uno chef! Lasciatelo cucinare! Mamma mia se cucina, ragazzi, come taglia. 2000 di danno? Ok, il primo danno fa 2000 e il secondo 1000. E consuma lo stesso caricatore. Quindi i tre colpi ti fanno 5000 di danno. La Super 2-Hit da 2006 a forma di X. Dal 26 andrà in pre-release. Fruit Ninja, bellissimo. Infatti, forse una delle migliori skin per quanto riguarda le 29 GM, perché dovrebbe essere una skin rara. Overdrive. Pocho con la ulti non cura di più, ma può andare oltre la vita. Cioè è un po' come lo shield quello che ti dà gas. Se i tuoi compagni sono full life e magari avevi una semplice ulti che in quel momento appunto non puoi utilizzare, con l'hyper la utilizzi, ti porti avanti e gli dai un bello scudo, tra virgolette, più vita a tempo, perché poi piano piano scende. Magari ne carichi un'altra e gli dai un'altra botta di cura. Mortis avanti e indietro con i pipistrelli. È abbastante, regà. Mortis sarà veramente tosto, bisognerà capire quanto ci metterà a ricaricarla. Cioè se te la ricarica veloce, l'hyper, aiuto. Squeak rimbalza un po' come Dynamike. Bugo nero de Dara, buco trappola senza fine. È più grande e dura di più. Iris sarà molto interessante, perché la testa diventa gigante e poi si muove più velocemente. Riesce a prendere di più. Cioè sorge direttamente al livello 5, lo mantiene fino alla fine dell'hyper, i colpi sono più lunghi e splittano in automatico. Immaginatevo anche in shout-out quello che può fare. E poi dopo, garellata di skin, non te ne privi. C'era una brotta, si ritorna. E qui ti specificano la skin, quella classificata. Bellissime tutte, raga. Se volete il video dove le proviamo tutte quante, mi raccomando, pollicioni, supportate. Bellissima pure questa di Drago. Perla. Queste le prenderò tutte. Ecco, qui l'hanno specificato Mandy skin classificata. Di questo mese, non di quello prima. Possess Poco ha un bonus per il review. Ma voi con l'hyper, immaginatelo. E poi altre skin. Ah no, scusate, prima i modificatori. Gadget illimitati. Li vuoi spammare ogni 15 secondi. Ragnetti a go-go. Suplex. Momentum, diciamo che va a boostare quelli che hanno i pet. Può essere Nita, può essere Jesse, può essere Mr. P. Peccato che non abbia l'hyper, ma Mr. P, ragazzi, lo amo, spinge veramente tanto. Anche quando colpiamo un personaggio, andiamo più velocemente. Più con le torrette. E qualsiasi cosa ci busta. Sarà velocissima. Due nuovi eventi. Vabbè, l'abbiamo già visti, regà. Pelot, l'abbiamo già giocati, ma... Tutte e tre molto belle. Queste qua, ricordo, sicuramente esclusive, come hanno gestito i pirati, quelli di Ferragosto. E ritorneranno magari in combo, scontando quelle vecchie. Io spero nel Leon, Lupetto, Grigio. Tutte e tre... D'applausi. Quelle di prima, qualcosetta, ci sarà sicuramente anche quei bling. Come anche quella lì del Supercell Make. Pure queste saranno sicuramente speciali. Questa la possiamo regalare. Tutte e tre bellissime. Cucucucureia. Se mangia una paella, cioè... Righetto. Queste qua, quelle un po' più sus. Questa ce la faranno shoppare per supportare il Montepremio delle finali, perché... In quel periodo lì ci dovrebbero essere le finali mondiali. Carina. Fang ce sta. E poi c'è questa qua, che è bella. Devastante, ragazzi. Veramente devastante. Questa web bling va assolutamente presa. Poi il pin. Vi ricordo il pin. Metterò il link su WhatsApp. Trovate il link in descrizione. Guardate che buco nero che fa Hank. E Broccoletto c'ha una doppia skin come il Mortis. Ragazzuoli, credo che non ci sia sfuggito nulla. Sicuramente ci è sfuggito qualcosa. Ci sono i commenti qui sotto. Che dirvi, ragazzi. Il parere... Confermo quello di ieri. Cioè l'evento di SpongeBob... È fino a se stesso. Nel senso... Dura un mese. Hai questa possibilità di utilizzare i brawler super boostati. Bisognerà fare un disastro di calcoli per capire quali sono i brawler. Quelli meta. Quelli che funzionano di più. Andare in partita. E te trovi quello che ce l'ha tutti quanti sbloccati a livello 3. Tu magari non li hai scioppati. Devasteranno la ladder per un mese. Le skin sono quelle di SpongeBob. Se vi piacciono, ragazzi, spendeteci i sordi che vi devo dire. Però mi metto nei panni di un eventuale season tipo tema One Piece, tema Dragon Ball che può piacere a me. Un evento del genere con tutta la roba dei Dragon Ball e magari i brawler che ti diventano Super Saiyan sarebbe stato incredibile. Però è sempre tutto a tempo determinato, tutto temporaneo. È quello che serve al gioco considerando che qualche giorno fa parlavamo dei ban per win trading, problemi destra e sinistra. Il vero gameplay del gioco non cambia dall'aggiornamento della classificata. Ci toccherà sperare nell'aggiornamento di fine ottobre che dropperà le stagioni di novembre e dicembre. Incrociamo le dita, per il resto tutte skin bellissime. Vi chiedo un pollicione, iscrivetevi e campanella, codice Crax ovunque. Un bacio da Crax. Ciao belli, ciao ciao.